Ciao ragazze, stamattina vi ho scritto su Facebook quale video preferite vedere per prima e tante di voi mi hanno risposto nei commenti il video tag ILOVEBLASH io comunque girerò come vi ho scritto anche gli altri video ovvero la review dei prodotti della Paolo P che ho avuto ragazze che mi hanno scritto che volevano quel video il tutorial bella con tre matite e il video tag di Martina, il signor pennello che lo trovo davvero un tag stupendo e sicuramente lo farò madonna che schifo questi capelli ragazze non vi fate mai la franza quando viene il periodo estivo perché non conviene, davvero non la supporto più comunque ho selezionato i 10 blush preferiti anche se io adoro tutti i blush che ho come sapete insomma io ho la blushite acuta quindi adoro tutti i blush davvero però ne ho selezionati 10 che insomma preferisco e utilizzo più spesso e niente inizio subito come sempre ho tutto sparso sul letto sono blush di diversi brand inizio a caso e prendo questo qui della ELF della linea in studio che mi è stato regalato da Claudia è una mia scritta ciao Claudia e grazie ancora ed è questo bellissimo rosa shocking dalla webcam sembra un rosa tenue ma in realtà è un rosa shocking molto molto bello e tra l'altro è anche modulabile può essere utilizzato sia per un look naturale quindi se si vuole avere un risultato un po' più naturale o un look un po' più particolare un po' più strong lo swatch è questo qui è davvero rosa shocking dalla webcam sembra un rosa rosa fluo ma è davvero rosa shocking un rosa fluo molto molto bello e scrivente l'ho provato e devo dire che dura tantissimo anche non non applicando una base cremosa quindi un blush cremoso da sotto poi tra secondo posto e ovviamente il secondo posto non è perché sto andando per preferenza o per altro ma insomma è quello che mi ho preso a caso ed è il blush della Kiko questa qui era una collezione limitata di Kiko che in questo momento non mi ricordo ed è lo 02 Rich Rose che già vi ho fatto vedere innumerevoli volte perché io adoro questo blush è stupendo ed è questo bellissimo color mattone rosa rosa salmone tipo è molto molto bello anche questo qui è modulabile ed è super scrivente e dura davvero tanto questo è il colore ma una volta sfumato dà davvero un effetto molto bello alle guance è molto pescato come potete vedere è davvero bellissimo e dura davvero un sacco di tempo cioè dura 5-6 ore le dura non vi dico cretinate ma io non non ci applico neanche sopra un blush in polvere perché davvero dura dura tantissimo e poi è super pigmentato e vi assicuro davvero dura tanto peccato che è un blush in edizione limitata però per chi ce l'ha ragazzi avete fatto un ottimo acquisto perché è davvero molto molto valido poi un altro blush sempre cremoso in realtà questo non è un blush perché da Wicon lo chiama Lip e Cheek questo questo qui praticamente è un prodotto che potete applicare sia sulle labbra che sulle guance io l'ho applicato sia sulle labbra però ho notato che secco un pochettino le labbra mentre sulle guance è fantastico davvero tra l'altro nella nuova collezione di Kiko hanno cercato di fare un prodotto del genere ma è davvero scadente l'ho provato quando sono andata insomma al centro commerciale ho visto la collezione è davvero scadente non è per nulla pigmentato il colore si perde diventa quasi trasparente mentre questo qui è davvero super super pigmentato come potete vedere è stupendo davvero questo è il è il colore bellissimo infatti sulle guance insomma dovete stare attente perché rischiate davvero un pastrocchio talmente che è pigmentato ve lo faccio vedere insomma un po' sfumato è stupendo questo è un colore perché per l'estate secondo me è davvero molto bello ed è questo questo qui non costa neanche tanto se non sbaglio intorno ai 5 euro e secondo me è un ottimo prodotto cioè mi dispiace sinceramente che la Wicon ogni volta che vado al centro commerciale il negozio della Wicon è vuoto mentre quello di Kiko è affollato non so perché ma le persone insomma non si sono rese conto dei prodotti che ha la Wicon perché sono davvero ottime ci tengo a precisare che la Wicon non mi paga per dire questo ma è un mio parere cioè sinceramente fa davvero dei prodotti fantastici per non parlare delle matite che io adoro poi un altro un altro blush sempre a caso ed è questo qui di Essence che fa parte della collezione limitata questo qui che mi ha regalato Mara ciao tesoro della collezione limitata scusate di Hans e Kiss mi uccido sempre a pronunciare questa cosa perdonate sempre il mio inglese pessimo e insomma vi faccio uno swatch sperando insomma che riesco eccolo qui come potete vedere questo qui a differenza degli altri blush rosati che ho è un blush rosa perla molto molto carino e dà un effetto luminoso al viso davvero molto bello peccato che i migliori blush di Essence sono sempre quelli in edizione limitata quelli della collezione permanente o quello lì tipo della silky touch non mi scrive niente sarà che se non sbaglio c'è un colore tra quelli lì della collezione permanente che non scrive però non mi ha entusiasmato più di tanto mentre questi qui insomma dell'edizione limitata di Essence sono davvero fantastici bellissimi e anche questo qui insomma è tre blush che sto utilizzando tantissimo è davvero molto molto bello complimenti a chi l'ha trovato insomma poi un altro blush che mi piace molto perché davvero ha un effetto naturale sulle guance crea davvero un effetto naturale sulle guance è questo qui della Sormee che vi ho fatto vedere anche nei promossi e bozzati è una marca americana non so insomma se lo potete riferire oppure se lo insomma lo acquistate sul sito è a rischio dogana quindi io l'ho trovata con il Cosmoprof e mi è stato dato per provarlo insomma ed è molto molto bello è un bellissimo rosa antico che vira insomma tipo al rosa malva molto molto carino è davvero molto carino i glitterini come potete vedere sono non si notano per nulla quindi non mi crea quell'effetto sul viso finto ma sono molto molto sottili sono molto molto piccoli e sottili quindi non si notano e poi si sperdono insomma pure quando lo andate lo andate a sfumare il blush ed è questo qui tipo rosa malva molto molto bello ed è per chi è interessato il blush fever 537 tra l'altro io adoro di questo blush anche il packaging ve l'ho detto anche nel video precedente stupendo non è niente di particolare però mi piace questo fatto che è tipo pressione molto molto bellino poi come blush non mi ricordo vabbè siamo al 1 2 3 4 5 6 6 6 posto vi ricordo che non è per preferenza ma insomma è a caso ci sono i blush questi qui di Mua tra l'altro ho fatto un ordine alla Mua e me ne sono ordinato un altro io ho lo shade 6, lo shade 4 e ho ordinato lo shade 3 pian piano insomma me li prenderò tutti perché sono davvero bellissimi questo qui in questo periodo è stato il mio preferito infatti come potete vedere si è cancellata persino la scritta lo utilizzo tantissimo perché è un marroncino con riflessi oro è molto molto bello non so più dove farmi gli swatch non si nota moltissimo aspettate eccolo qua come potete vedere è un bellissimo marroncino con riflessi oro è molto molto bello e dà un effetto luminoso al viso discreto ovviamente non è quella cosa tipo appariscente bruttissima è molto molto carino è modulabile anche questo e ha questo effetto tipo sheer dorato molto molto carino secondo me sulla bronzatura questo blush è qualcosa di spettacolare e una cosa fantastica di questi blush è che durano tantissimo questi qui anche senza un un blush in crema insomma da sotto e sono questi della linea da una sterlina c'è anche questo qui lo shade 4 che è un un rosa un rosa che vira al pescato vorrei farvi gli swatch di tutti ma mi sto rendendo conto che non ce la farò mai e come potete vedere è questo qui molto molto scrivente eccolo tra l'altro io lo appino anche al blush in crema questo qui della Mua perché è proprio insomma lo stesso lo stesso colore aspettate oddio no un attimo non si è rotto meno male vedete è proprio lo stesso identico colore a volte insomma se voglio dare un effetto un poco più acceso alle mie guance utilizzo questa combo qui ovvero il blush in crema che è lo yummy il blush perfection cream blusher il colore yummy e lo shade 4 di questi qui da una sterlina che come potete vedere il colore è praticamente identico potete acquistare sia quello in crema che quello in polvere per fare tipo questa combo che faccio anche io anche se non ha bisogno insomma è super pigmentato questo qui da una sterlina e ve l'ho già ve l'ho già detto tra l'altro no sto notando che si è tutto intero non si è distrutto niente no non si è distrutto niente ragazze perché mi è caduto per terra non so se avete notato e tra l'altro mi sono anche sporcata il pantalone giusto per gradire andiamo avanti adoro anche i blush questi qui della Fijan Formula ve li avrò fatti vedere innumerevoli volte questo qui è quello lì natural che io abbino anche al blush in crema di Mua perché questo qui è davvero molto molto lieve come colore vorrei farvi uno swatch ma non ho più una mano una mano libera ve lo faccio qua va come potete vedere è molto 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 tenue come colore e io lo abbino insomma a quello Mua per farlo un effetto per fare insomma per renderlo un po' più colorato e più resistente ho anche altre due colorazioni però ne ho preso soltanto uno per farvelo vedere perché poi insomma le altre anche le adoro quindi inutile che portavo un sacco di roba ed è questo qui sempre questo qui è un prodotto americano quindi se lo trovate è a rischio è a rischio dogana io me li sono fatti spedire da mia cugina e me li ha fermati da dogana quindi è garantita la cosa poi un altro blush che adoro perché è un multiuso è questo qui della NYX che si è cancellato tutto ed è lo 04 PC che già vi ho fatto vedere è utilizzato anche come ombretto e come blush è molto molto bello perché dà davvero un effetto naturale al viso sembra insomma come se il rossore naturale insomma delle vostre delle vostre guance non so come spiegare è davvero molto molto naturale è perfetto secondo me per i look da giorno è davvero perfetto perché è naturalissimo cioè non si nota proprio però allo stesso tempo dà un bel effetto alle guance le rende insomma luminose eccolo qua vedete è un poco satinato quindi sulla guancia è davvero bello come effetto lo faccio qua per farvelo vedere vedete è molto molto naturale è molto molto naturale una volta sfumato si nota pochissimo si nota solo questo questo insomma questo effetto satinato sheer sulla guancia molto molto bello poi come ultimi due blush allora promuovo questo qui della gloss lo inserisco perché è fantastico questo colore ed è quello lì che ho sulle guance come potete vedere è molto modulabile non è questo aranzone bello bello forte e ma insomma è bello pesca molto molto carino tra l'altro devo dire che questo blush dura una vita cioè io l'ho applicato tipo oggi che erano le 5 sono le 10 di sera e sta ancora qui come potete vedere è davvero un qualcosa di fantastico e questo qui è lo 06 Doll Compact Blush di Glossip davvero molto molto valido e come ultimo ma vi ripeto non per importanza c'è questo blushino minerale ed è la Clima Minerals Lux ed è il blush Rouge Prairie Rose ed è un color malva mattone sulle guance infatti questo va applicato pochissimo perché se no rischiate il patatrack se riesco voglio prelevarvi un poco di colore per farvi per farvi lo swatch se riesco allora è proprio un color mattone però è stupendo soprattutto per i look da pin up quando vi fate insomma il trucco tipo pin up è stupendo davvero stupendo è questo questo qui purtroppo con l'unghia non riesco a prendere un cacchio eccolo qua eccolo qua come potete vedere è un color mattone che vira all'aranciato è davvero stupendo io lo utilizzo tantissimo quando mi trucco con i colori nude tipo pin up mi piace tanto ed è super scrivente infatti questo è sicuro un blush che ricomprerò da questa azienda che è tedesca e vende prodotti minerali ed è questa questa azienda qui a me mi è stato mi hanno inviato insomma una serie di campioni e questo qui è tipo da 5 grammi se non sbaglio ma ne basta davvero uno sputo voi infatti potete pure ordinare queste cialdine qui infatti mi sa che ordinerò questa ho ordinato tutto in queste cialdine che costano un euro e qualcosa perché la roba vi dura tantissimo non è necessario il full size che vi viene a costare anche di più ma veramente vi dura una vita questo qua a me mi è stato inviato tipo a settembre vedete quante ce n'è ancora davvero ne basta pochissimo e niente ragazze io mi mando un forte bacio vado a pulirmi il pantalone perché devo uscire e tengo una chiazza arancione vorrei farvi vedere però mi sa che non si vede mi sa di no niente ho una chiazza arancione sul jeans davvero oscena quindi niente io vi mando un forte bacio ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao